andrà tutto bene puntata numero 156 oggi è mercoledì 29 aprile 2020 e sono le 9 e 49 giochino onorati e giuseppe de falco ben ritrovato giuseppe buongiorno ben ritrovato perché noi abbiamo fatto una puntata il 17 aprile 2020 puntata numero 98 la sicurezza nei luoghi di lavoro recentemente ma davvero recentemente e cioè il il 26 aprile 2020 con decreto del presidente del consiglio dei ministri sono state adottate ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 numero 6 recante misure urgenti di materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid 19 applicabile sull'intero territorio nazionale questo decreto legge è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale di lunedì 27 aprile 2020 gazzetta ufficiale numero 108 il decreto legge in questione consta di 10 articoli e di 10 allegati le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio in sostituzione di quelle del decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci dal fino al 17 maggio quindi si applicano dalla data del 4 e sono applicabili fino al 17 maggio ad eccezione importante dirlo di quanto previsto dall'articolo 2 comma 7 9 11 che si applicano dal 27 aprile 2020 quindi in parte dal 27 aprile in parte dal 4 maggio ma fino al 17 maggio 2020 quindi per pochi giorni questo decreto all'articolo 1 composto di un solo comma addirittura dispone ben 36 misure di contenimento è veramente corposo che cosa sta accadendo giuseppe allora per quanto riguarda la parte di questo dpcm che si occupa delle dell'attuazione di misure di sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare con riferimento alle attività non sanitarie infermeristiche di laboratorio che per i rischi specifici che ne sono propri necessitano di una regolamentazione a parte in particolare per tutte le altre attività pubbliche e private richiama inserendolo poi nel corpo del stesso dpcm all'allegato 6 il protocollo di sicurezza stipulato dal governo e dalle parti sociali nel pare il 24 di aprile di quindi qualche giorno prima si ad integrazione del precedente protocollo che era stipulato stato sempre in pendenza di emergenza covid il 14 marzo e in particolare nel dpcm si stabilisce nell'articolo 2 al punto 6 che le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto il contenimento della diffusione del covid 19 negli ambienti di lavoro sottoscritto appunto fra governo e parti sociali il 24 aprile allegato 6 vi sono poi sempre richiamati nel medesimo punto 6 dell'articolo 2 altri due protocolli in materia di sicurezza del lavoro più specifici che sono stati sottoscritti sempre qualche giorno prima e cioè quello del 24 aprile in materia di sicurezza nei cantieri con riferimento quindi alle misure di contenimento del contagio nei cantieri e poi l'altro specifico del settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo e entrambi questi ulteriori protocolli sono anch'essi allegati a far parte integrante del dpcm è importante quanto precisato nella parte finale del punto 6 e cioè che la mancata attuazione dei protocolli che ho appena citato determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza a meno che non siano comunque assicurati nelle singole imprese adeguati livelli di protezione questo sta a significare quindi che le indicazioni contenute nei protocolli stati costituiscono senz'altro delle raccomandazioni cogenti per i datori di lavoro pubblici e privati ma possono essere sostituite nel coriferimento a singole attività da altre misure di cautela e di tutela purché riescano ad adottare a garantire il medesimo livello di sicurezza infatti nel protocollo stesso questo il principale questo dell'allegato 6 questo che vale quindi per tutte le attività ad esclusione di trasporto logistica cantieri e ovviamente ad esclusione di attività sanitarie simoli è specificato che ciascuna impresa può adottare ulteriori misure e cautele riferendole alla specificità del proprio contesto alla specificità del rischio da contrazione di virus con riferimento al contesto appunto particolare questi questo protocollo il dpcm che lo ha ne ha fatto lo ha utilizzato a farne parte integrante comunque trovano una base legislativa in uno dei decreti legge emanati in costanza di emergenza il numero 19 del 25 marzo che l'articolo 1 comma 2 lettera z e poi lettera gg stabilisce che le attività non sospese si svolgono previa assunzione delle misure idonee a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio e che i rischi e i servizi pubblica necessità debbano adottare qualora non possibile far rispettare detta distanza protocolli di sicurezza anti contagio e strumenti di protezione individuale in ogni caso si armonizzano le misure di questi protocolli perfettamente col sistema normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sistema del quale costituisce cardine una norma di fondamentale civiltà giuridica l'articolo 2087 del codice civile emanato nel 1942 il codice civile del 1942 ma ancora di straordinaria attualità e pertinenza che prevede quale misura di chiusura dell'ordinamento che il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza che secondo la particolarità del lavoro l'esperienza e i risultati della tecnica consentano di tutelare salute e integrità personalità morale integrità fisica ora li traduciamo nei termini salute e sicurezza dei prestatori di lavoro questa è una norma aperta cardine nel nostro ordinamento che come dicevo implica l'obbligo per il datore di lavoro ogni qualvolta non vi siano disposizioni normative specifiche che impongano che cosa fare quali cautele adottare l'obbligo dicevo di adottare tutte quelle misure che secondo i tre parametri dell'esperienza della particolarità del lavoro e dell'evoluzione scientifica valgano a tutelare al meglio la salute e la sicurezza dei lavoratori di fronte a un'emergenza così nuova inaspettata non esistono perché non era prevedibile norme legislative specifiche e quindi questo protocollo richiamato dal dpcm e che ha in qualche modo una base legale legislativa legislativa non legale nella decreto legge che ho detto si armonizza benissimo con questa norma e quindi viene a far parte integrante del sistema normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento a questo specifico rischio biologico che il protocollo considera giustamente come rischio biologico generico cioè non derivante da attività che fanno uso di agenti biologici ma da questa pandemia in corso l'allegato l'allegato 6 cioè il protocollo del 24 aprile integra e perfeziona il precedente protocollo del 14 marzo dettando una serie di cautele che appunto servono così come è stato detto per orientare le imprese nell'organizzazione della sicurezza del lavoro in questa cosiddetta fase 2 trova tra l'altro una importante conferma tecnica e giuridica quanto scritto nel protocollo in un documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategia di prevenzione predisposto dall'INAIL nel 2000 nell'aprile di quest'anno quindi recentemente si armonizzano benissimo le misure del protocollo e le indicazioni dell'INAIL è importante che in questo documento dell'INAIL viene il rischio da contagio da covid in occasione di lavoro classificato secondo tre variabili che sono l'esposizione la prossimità e l'aggregazione l'esposizione è la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative circostanza del settore sanitario della gestione dei rifiuti speciali dei laboratori di ricerca la prossimità è integrata dalle caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale per esempio compiti specifici in catene di montaggio questo per tutta l'attività di lavoro soltanto per una parte di esse l'aggregazione è quella tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti o altri lavoratori dell'azienda ristorazione commercio a dettaglio spettacolo settore alberghiero amministrazioni pubbliche quindi a seconda delle tre variabili le diverse attività lavorative sono classificate come riferite a classi di rischio basso medio alto o alto e quindi vengono indicati livelli crescenti di misure di sicurezza quello che importa sottolineare è che nel protocollo nel documento dell'INAIL e comunque anche alla luce di questa norma del 2087 dei principi generali del nostro sistema normativo in materia di sicurezza emerge con chiarezza che di fronte a questa particolare categoria di rischio rischio da contagio le misure più importanti misure di sicurezza che quindi rilevano sul luogo di lavoro sono misure di carattere organizzativo e procedimentale prima ancora che misure di carattere concreto prima dell'obbligo di fornitura dei dispositivi di protezione individuale mascherine guanti tute camici eccetera viene in rilievo l'obbligo per il datore di lavoro di verificare possibili forme di organizzazione del lavoro che servano a diminuire l'afflusso di persone nei luoghi di lavoro e quindi il rischio di contagio questo attraverso istituti propri del rapporto di lavoro come la concessione di ferie di permessi la turnazione l'orario flessibile attraverso l'impiego come forma preponderante laddove possibile del lavoro agile che quindi consente al lavoratore di non venire nel luogo di lavoro attraverso la rimodulazione degli ambienti di lavoro per far sì che tendenzialmente ogni lavoratore possa lavorare da solo in un locale attraverso la gestione accorta degli spazi comuni per evitare affollamenti attraverso la gestione accorta dei contatti con il pubblico quindi per esempio da dove è possibile limitare l'afflusso di pubblico nelle amministrazioni pubbliche per esempio si deve verificare la possibilità di far avvenire il pubblico attraverso appuntamento, previo appuntamento quindi scaglionando l'afflusso nel tempo quindi le misure organizzative sono quantomai importanti in questo momento e di fronte a questo tipologia di rischio altra misura fondamentale è quella dell'informazione, fornire ai lavoratori tutte le informazioni sulle cautele di carattere sanitario generali quindi da adottare per tutti i cittadini e per i lavoratori particolari e in più fornire informazioni su quelle che sono le disposizioni di sicurezza che sono date nelle singole aziende nelle singole compagini lavorative e fornire anche un'adeguata formazione sul punto viene quantomai in rilievo un principio cardine della nostra sistema normativo quello per cui ciascun lavoratore nell'articolo 20 del decreto legislativo 81 del 2008 è tenuto a prendersi cura non solo della propria salute e sicurezza ma anche della salute e della sicurezza altrui quindi degli altri colleghi di lavoro quindi questa responsabilizzazione del lavoratore che ovviamente deve essere previamente formato e informato in maniera adeguata è un altro cardine del nostro sistema di contenimento del contagio poi se vuoi posso accennare alle diverse misure previste da questo protocollo sì che sono davvero molte abbiamo detto 30 sono addirittura 30 no no le misure del protocollo di sicurezza sono le misure a attuare specificamente nei luoghi di lavoro ah d'accordo d'accordo io mi stavo riferendo invece all'articolo 1,1 che è suddiviso in 30 lettere nel protocollo è invece delineata una serie di misure da adottare nei luoghi di lavoro quindi la prima è quella a cui già facevo scenno l'informazione dei lavoratori con l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro per esempio nel fare accesso in azienda è l'obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro dell'eventuale presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la prestazione lavorativa che possa far pensare alla contrazione del virus e che quindi imponga immediatamente di andare a casa il lavoratore di cessare l'attività lavorativa la seconda misura riguarda le modalità di ingresso in azienda tra le quali è prevista come facoltà non come obbligo quella della misurazione della temperatura di tal che se la persona risulta avere una temperatura corporea superiore a 37 gradi e mezzo non potrà fare ingresso in azienda e sarà invitata a contattare il medico di famiglia ovviamente questa è una misura che implica problemi di privacy e certamente non deve essere registrato il dato nominativo della persona ma serve solo tanto come cautela per non far affluire persone potenzialmente a rischio analoghe misure di cautela devono essere prese quante alla modalità di accesso dei fornitori, dei clienti, di tutti coloro che quindi hanno un rapporto commerciale lavorativo in genere con il luogo di lavoro e che quindi devono essere appunto gestiti nel loro ingresso in azienda poi vengono raccomandate le misure di pulizia e sanificazione il più frequente possibile devono essere dei locali e delle attrezzature di lavoro tra le altre misure ancora le precauzioni igieniche personali che sono precauzioni alle quali tutti come cittadini siamo ormai da tempo abituati poi c'è la misura relativa ai dispositivi di protezione individuale cosiddetti mascherine, guanti eccetera allora attenzione non esiste in generale salvo che per alcune attività più a rischio un obbligo infatti non c'è non c'è nel protocollo si specifica che quando la prestazione lavorativa fra due lavoratori debba avvenire a una distanza interpersonale minore di un metro allora lì sorge l'obbligo di dotazione di mascherine e altri dispositivi come guanti, occhiali, tute, cuffie e cani Giuseppe, scusami un attimo, si dice anche, leggo all'articolo 1,1 lettera A protezioni delle vie respiratorie in generale protezioni delle vie respiratorie queste quello, l'articolo 1 riguarda la popolazione in generale nei luoghi di lavoro quindi nei casi, a parte le attività specifiche va sempre detto che portano rischi particolari e hanno una regolamentazione del tutto propria per il resto non vi è un obbligo generalizzato ma c'è sicuramente nel caso in cui appunto la distanza interpersonale non possa essere superiore a un metro non possa farsi luogo, ovviarsi a questo con ulteriori e diverse misure organizzative o quando vi siano spazi comuni che devono essere condivisi da tutti i lavoratori allora si viene indicato questo obbligo del resto anche questa è una misura coerente con la normativa generale in tema dispositivi di protezione individuale in particolare l'articolo 75 del decreto legislativo 81 del 2008 che rimane sempre il cardine in materia che stabilisce che i dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione da mezzi di protezione collettiva da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro quindi anche in questo c'è piena coerenza con la norma generale per continuare velocemente l'illustrazione delle altre misure la settima riguarda la gestione degli spazi comuni mense, spogliatoi, aree, fumatori che chiaramente devono essere sempre areati e devono essere gestiti evitando afflusso e con presenza per quanto possibile l'ottava è quella misura di organizzazione aziendale a cui facevo cenno prima e che è fondamentale utilizzo di strumenti giuridici consentiti dalla normativa in materia di lavoro smart working, turnazione, flessibilità, chiusura di certi ambienti che valgono a evitare in radice il rischio di contatto tra persone e poi ancora anche le misure sempre di carattere organizzativo relative al distanziamento sociale al riposizionamento delle postazioni di lavoro per evitare che per esempio due scrivanie siano vicine tra loro quindi qualsiasi tipo di misura organizzativa che valga in generale a evitare rischi di contagio ancora altre misure la gestione dell'entrata e uscita dei dipendenti deve essere scaglionata negli orari se possibile istituendo un ingresso e una uscita diversa devono essere evitati spostamenti interni, riunioni in compresenza quindi favorire le riunioni in videoconferenza l'undicesima misura a riguardo alla gestione di una persona sintomatica in azienda che cosa si deve fare quando una persona presenta sintomi in azienda e chiaramente si fonda sull'obbligo di piena collaborazione con l'autorità sanitaria la dodicesima misura a riguardo alla sorveglianza sanitaria da parte del medico competente che diventa figura fondamentale per il datore di lavoro in questa emergenza in quanto collaboratore specificamente competente in questa e che quindi deve, secondo questo protocollo, questa è una novità segnalare situazioni lavorative di particolare fragilità e rischio per esempio persone, lavoratori immunodepressi o con malattie particolari rispetto alle quali bisogna adottare delle cautele ulteriori anche con riferimento a fragilità dipendenti dall'età e si incentivano le visite mediche rispetto alla normativa generale del decreto legislativo 81 infine l'ultima misura è quella che impone il monitoraggio dell'attuazione di questi protocolli è chiaro che, così anche qui ci rifacciamo per concludere a carvi della normativa di prevenzione non basta disporre misure di cautela, di sicurezza e di tutela bisogna pretenderne l'applicazione e l'osservanza bisogna vigilare anche attraverso l'utile collaborazione delle rappresentanze sindacali, aziendali del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per verificare che le misure adottate siano pertinenti, efficaci e congrue e vengano osservate tutti insieme con responsabilità verso, spero, un percorso di uscita definitiva da quest'incubo Questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 porta delle modifiche al decreto legislativo 81-2008? No, non avrebbe potuto farlo perché è una normazione secondaria e comunque non ce n'era bisogno si integra attraverso questi principi generali a cui ho fatto più volte riferimento con il disegno normativo generale in materia di sicurezza Perché neppure i decreti legge mi pare che abbiano modificato l'81-2008 Nessuna modifica espressa Perfetto Altro punto Articolo 2,6 La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza Sì, è la disposizione a cui ho fatto cenno io all'inizio Infatti Quindi il principio è che questo protocollo può avere delle forme di tutela equipollenti che il datore di lavoro sceglie con riferimento alla specificità della propria azienda Se il livello di sicurezza è equivalente non importa la mancata attuazione del protocollo L'importante è che le misure attuate siano efficaci qualora così non fosse l'attività sospesa Ecco, a chi spetta verificare se il livello di protezione è adeguato e a chi spetta Nella materia della sicurezza del lavoro noi abbiamo gli organismi di vigilanza quindi ASL, Ispettorato del Lavoro che istituzionalmente sono competenti alle verifiche in azienda circa il rispetto della normativa di prevenzione e quindi anche con riferimento adesso a questa specifica tipologia di interventi da attuare Non è precluso a mio giudizio neanche alle forze dell'ordine se ne hanno la competenza poter fare segnalazioni di questo tipo ma è chiaro che una verifica sull'attuazione di questo tipo di misure compete a un organo che sia specificamente competente in materia ASL, Ispettorato del Lavoro in particolare una direzione provinciale del lavoro Non sono previste sanzioni in questo DPCM? Allora, su questo il DPCM non può prevedere sanzioni a una normativa secondaria su questo questo è un tema molto delicato perché coinvolge il rapporto con le sanzioni penali per lo più penali di carattere generale che sono nel Decreto 81-2008 Peraltro la previsione esplicita che è contenuta appunto in questo punto 6 dell'articolo 2 del DPCM di una sospensione dell'attività in caso di mancato raggiungimento dei livelli di sicurezza a mio giudizio può valere come sanzione di carattere speciale rispetto all'applicazione di normative penali cioè qual è la conseguenza di chi non applica il protocollo o misure equipollenti che l'attività va chiusa bene sul tema delle sanzioni ulteriori applicabili non mi soffermerei perché necessita di ponderazione equilibrio e prudenza in questo momento però qui abbiamo una specifica sanzione di carattere concreto chiusura sospensione dell'attività nel caso di mancata osservanza che è insomma una sanzione nei propri effetti pratici potentissima molto più di una piccola multa articolo 1 comma 1 lettera dd gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa oltre alla distanza interpersonale di un metro sono tenuti ad assicurare oltre alla distanza interpersonale di un metro che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno delle locali ecco qui la parte interessante più del tempo necessario all'acquisto dei beni ma è ciò con cui siamo abituati a confrontarci da quando l'emergenza è iniziata non possiamo stare davanti a un banco di un supermercato come si faceva prima 10 minuti a scegliere il prodotto che più ci piace bisogna essere veloci è un modo diverso di comportarsi insomma questo ricade soprattutto sulla responsabilità dei singoli di ogni persona di ogni individuo Giuseppe io mi sono segnato molte domande ma il tempo a nostra disposizione è davvero terminato l'abbiamo addirittura raddoppiato ti pregherei però veramente ti pregherei di tornare nuovamente qui ad andrà tutto bene per domande specifiche proprio su quelle 30 misure previste dall'articolo 1,1 per aiutarci a comprendere meglio che cosa significano va bene sempre che poi sia possibile dare risposte chiare a tutto non è così semplice e quindi se non è semplice per un procuratore capo sì in questo stesso periodo si chiedono le stesse domande anche agli organi del governo a coloro che hanno emanato questo DPCM che sicuramente sono molto più titolati di me a dare risposte che possano consentire una maggiore chiarezza nei limiti del possibile la situazione è drammatica è imprevedibile ed è totalmente nuova non possiamo pensare di avere la soluzione chiara ed efficace è tempestiva per ogni cosa è una situazione troppo complicata per poter aspettarsi delle certezze su tutto magari riuscissimo ad averla grazie grazie Giuseppe buona giornata grazie grazie